Da oggi, mercoledì 25 ottobre, sino a sabato 28 prossimo, Lecce ospiterà il primo festival dell'appartenenza e dell'inclusione. Il tema di questa edizione è Dire Donna. La manifestazione organizzata dall'Associazione di Volontariato Casa e la Fondazione di Vergo, Onlus, propone un programma ricco e variegato che attraverso diverse forme d'arte sensibilizza l'opinione pubblica, anche quella formata dalle fasce d'età più giovani, all'importanza dell'inclusione e della figura della donna all'interno della nostra società. Il festival, sì, punta a tanti linguaggi diversi, quello della pittura, quello del cinema, quello della musica, proprio perché vogliamo raggiungere tante persone con il messaggio che vogliamo lanciare, ovvero ragionare insieme alla città sull'inclusione e sull'appartenenza, e quest'anno in particolare sul tema della donna, per permettere proprio di avviare una riflessione e agire nuove pratiche. Ecco, come può l'arte, quindi la letteratura, il cinema, la pittura coinvolgere tutte le fasce d'età? È un veicolo straordinario. Anche le scuole verranno nelle prossime due mattine al cinema Massimo, ci sarà il concerto del Radio Dervish, ci saranno delle interviste di un'attivista iraniana e, diciamo, è il linguaggio più importante, più potente anche per poter parlare, di trasmettere valori, coinvolgere su un messaggio particolare.